Un aumento del 10% delle presenze nell'arco del 2013, equivalente a 1.050.000 turisti, è quanto emerge dalla presentazione dei dati sul turismo per il territorio provinciale di Arezzo. Le percentuali migliori sono state riscontrate nel comune di Arezzo, che ha registrato un più 20% di presenze, e in quello di Cortona con un più 3,9% di turisti. Per quanto riguarda le quattro vallate, Valdarno e Valdichiana registrano situazioni positive, mentre per Casentino e Valtiberina i dati sono negativi negli arrivi, a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nel complesso la provincia di Arezzo presenta due dati importanti in controtendenza rispetto al resto della Toscana. Il flusso degli italiani, che è un flusso che si sa che è calato, c'è stata una forte emorragia ovunque, noi in provincia di Arezzo siamo stabili, quindi abbiamo intercettato anche il mercato italiano e siamo in crescita, come d'altronde questo nel resto della Toscana, per il mercato dei turisti, quello straniero. Un altro dato in controtendenza e decisamente importante è l'indice di permanenza, perché sempre ci lamentiamo del turismo mordi e fuggi, abbiamo innalzato questo dato che è appunto in controtendenza con il resto del territorio della Toscana. Noi siamo saliti a un più 3,21, vuol dire che minimo abbiamo una permanenza di tre notti. A favorire il turismo nel nostro territorio è stato il miglioramento delle strutture recettive a livello qualitativo e le iniziative culturali promosse dalle singole amministrazioni comunali. La Val di Chiana quest'anno ha registrato un più 12, perché comunque sia la conferma è che la cultura, il turismo culturale è al primo posto. Poi nelle strutture museali la Val Tiberina ha registrato 20.000 ingressi in più, un più 50%.